Ha ceffato un Arsenio Lupin a Redoseo, seminava panico in città. Un ladro seriale, 43 anni, aveva tenuto terrorizzato commerciante residente a Siracusa. Un Arsenio Lupin dei giorni nostri che avrebbe inannellato una serie di furti in abitazione e attività commerciali facendo eruzione di notte e derubando nei locali e domicili prescelti. La polizia di Stato e l'arma dei carabinieri di Siracusa coordinate dalla locale procura della Repubblica erano già sulle tracce del giovane e ne eseguivano i movimenti fino a quando il cerchio si è stretto attorno a un siracusano di 43 anni già conosciuto dalle forze dell'ordine. Oggi gli investigatori della squadra mobile dell'arma hanno eseguito l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa che dispone per il 43enne la misura della custodia cautelare in carcere e considerata la non accosianalità della sua condotta. L'indagato nel tempo ha dimostrato professionalità, delinquere e determinazione nella commissione delle condotte illecite oltre che una grande capacità organizzativa agendo sempre di notte in assenza di passanti. Gravato da numerosi precedenti di polizia, anche specifici e a suo carico, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in ordine a ben otto episodi di furto aggravato nella forma tentata e consumata ai danni di attività commerciali e abitazioni private della città Redosea. Per meglio comprendere la pericolosità sociale dell'uomo basta ricordare che nell'ultimo periodo aveva preso di mira e derubato oltre che private abitazioni anche bar, supermercati e ristoranti causando ingenti danni alle strutture facendo razzia di merce e di denaro. Il modus operandi era quasi sempre lo stesso, il 43enne avrebbe forzato il portoncino d'ingresso delle abitazioni o degli esercizi commerciali con qualsiasi mezzo a sua disposizione, delle volte attraverso un blocchetto di pietra, altre volte asferrando ripetuti calci, altre volte ancora utilizzando un motociclo come ariete per poi impossessarsi dell'incasso di altri beni presenti nei locali. Le risultanze investigative raccolte dal personale delle forze di polizia impegnate nelle indagini attraverso la minuziosa attività di ricostruzione degli episodi delittuosi e attraverso il suo proluogo delle attività depredate, analisi delle immagini riprese dai circuiti di videosorveglianza hanno permesso di costruire un solido quadro probatorio consentendo all'autorità giudiziaria di mettere il provvedimento della custodia cautelare in carcere.